Un grande orgoglio avere qui una manifestazione di così grande prestigio a Martinsicuro, un piccolo paesino dell'Abruzzo dove la federazione ci ha dato l'opportunità di raggiungere un sogno, grazie anche alla regione che ci ha consentito di adeguare anche l'impianto sportivo il comune di Martinsicuro, il CONI e un grande lavoro di team da parte di tutti i volontari dell'associazione Siamo qui in Abruzzo a Martinsicuro, un campionato molto importante, con tanti giovani talenti La prossima tappa sarà il campionato mondiale dentro casa, ad alto cercato e ci prepareremo per far bene ad agosto, fine agosto Per noi è veramente un orgoglio poter ospitare il campionato nazionale di battinaggio nel corso su pista Abbiamo lavorato molto in questi mesi insieme alla famiglia Vossica per cercare di rendere un spettacolo e ci siamo a trovare tantissime squadre, tantissime giovani, tantissime trevi Facciamo un bocca al luco a tutti, è un evento che non solo di natura sportiva ma che rappresenta per noi anche una passione turistica nel pieno di una stagione con moltissime persone che ci vengono a trovare quindi speriamo di poter accogliere tutti qua in maniera di attività Grazie Grazie Grazie